Per favore aiutiamo, per favore vogliamo aiutare, perché il governo d'Italia non mi aiuta noi, niente. Siamo qua, dopo, siamo qua dieci anni, già un persona dieci anni, già un cinque anni, già un altro due anni, tutti non è, tutti niente, non lavoro, non caso, niente a fare, niente. Per favore vogliamo aiutare, non abbiamo ancora aiuto, non troviamo ancora aiuto, mi dispiace, noi rifugiati, rifugiati senza aiuto, che cosa facciamo? Non possiamo fare niente, siamo qua.